Un matrimonio che non sa da fare, anzi molti di più, per colpa del Covid. Fra marzo e aprile 17.000 coppie hanno annullato le nozze e questo incide non solo sulla vita dei fidanzati, ma ha pesanti ripercussioni economiche e lavorative. In Italia, tra abiti, truccatori, foto, fiori, sale e ricevimenti e chi più ne ha più ne metta, attorno al settore ruotano 40 miliardi di euro. Luca ogni anno lavora a una trentina di matrimoni e ha dovuto rimandarne già 15. Sto reggendo comunque, perché abbiamo lavorato tanto negli scorsi anni, nel 2019, sì, l'aiuto del governo una mano dà. Sicuramente nel lungo periodo le cose stanno iniziando a farsi sentire. Le spose tendenzialmente hanno l'ansia di ce la farò a fare il mio matrimonio, ce la farete. I matrimoni si possono fare. Io mi permetto di dare un consiglio, anche per venire incontro agli operatori dei matrimoni. Ci si può sposare in tutta la settimana, non per forza al sabato. I matrimoni invernali sono bellissimi. Anche Sposa Italia Collezioni, una delle manifestazioni più importanti per le aziende di abiti da sposa, è stata rinviata a settembre a causa dell'emergenza coronavirus. È chiaro che questo tipo di percorso va a rivedere una canonica stagionalità che prevedeva la fiera ad aprile, perché è aprile il momento in cui presentare le collezioni in vista delle collezioni 2021. Ma oggi riteniamo che settembre possa essere un momento, speriamo in generale, più sicuro e specificatamente per l'esigenza del mercato della sposa, un momento molto opportuno per rincontrare i negozianti e aver moda di presentare le capsule delle nuove collezioni e chiudere così un 2020 all'insegna di una ripresa e di un rilancio.